17 anni di vita del Circo Lagorà. Il Circo Lagorà è un'associazione culturale e sociale le cui attività in città vanno dall'attività corsistica, i dibattiti, l'assistenza agli immigrati, la presenza della biblioteca Andrea Fisoni, il fatto di essere luogo di socializzazione e di aggregazione. Festeggiamo i nostri 17 anni di esistenza e di resistenza con una giornata che inizierà a partire dalle 18 di sabato 5 novembre con la presentazione e l'inaugurazione di una mostra fotografica, poi avremo una cena che è la cena di fine corso di cucina e una serata di ballo e di musica a partire dalle 22. La giornata è una giornata di festeggiamento, appunto come una festa di compleanno, i motivi per festeggiare sono comunque importanti perché oggi continuare a riuscire a mantenere in piedi una realtà come la nostra è effettivamente un'impresa ardua. È una cosa difficile non soltanto per il Circo Lagorà ma per molte delle associazioni, delle strutture sociali e culturali pisane e quindi il Circo Lagorà è all'interno di questo circuito di resistenza, però riteniamo che sia fondamentale mantenere in vita luoghi come questi. L'attività stiamo portando avanti in questo periodo, ci sono i vari corsi che sono un momento di formazione molto importante, e tra l'altro ne stanno partendo di nuovi, abbiamo delle nuove sperimentazioni tipo i corsi di cucina giapponese. Ci sono attività molto importanti che sono quelle legate ai corsi di informatica che si chiamano Nonno Web e questi sono non soltanto momenti di formazione informatica ma anche momenti che permettono alle persone di passare all'interno del Circolo momenti costruttivi di socializzazione. Un'attività molto importante che viene fatta è sicuramente la biblioteca, all'interno del Circolo c'è la biblioteca Andrea Fisoni, la biblioteca è inserita all'interno del sistema bibliotecario toscano, ci sono volontari che inseriscono il nostro patrimonio librario e video all'interno del sistema MetaOpac e sempre nell'ambito della biblioteca vengono fatti regolarmente dei corsi di biblioteconomia. Questi sono effettivamente dei momenti di formazione significativi. Che altre attività vengono svolte, a parte quella corsistica e quella di formazione, vengono svolte presentazioni di libri, vengono fatte attività di dibattito. Un'attività molto importante è sicuramente l'attività rivolta agli immigrati che vede i corsi di italiano per migranti e vede poi un'attività di sportello vero e proprio. All'interno di questo vengono costruiti ambiti di discussione, di dibattito, di confronto e anche momenti di rivendicazione per i diritti degli immigrati.